Un risultato politico inequivocabile, la vittoria della Lega e di Salvini. Ne parliamo col capogruppo in Consiglio regionale, Sandro Zaffiri, che si è battuto in questi ultimi mesi con grande tenacia. Ma questo è un risultato di Matteo Salvini. Matteo Salvini ha creduto in questa sfida, ha lanciato questa sfida al Paese. Oggi a durne aperte ha avuto ragione, ha avuto un grandissimo risultato la Lega. Quando dicevamo che ci proponevamo alla guida del Paese, mettendo la nostra faccia, mettendo il nostro impegno e ritornando dagli elettori se non riusciremo a raggiungere l'obiettivo che gli abbiamo dato, oggi c'è la dimostrazione dei fatti che è tutto vero e sarà così. Nelle Marche c'è stata questa grande esplosione della Lega dal 2013 delle politiche dal 0,69% al 18% circa in tutta la regione Marche, con una punta di oltre il 21,5% nella provincia di Macerata. Questa è la dimostrazione che abbiamo lavorato in questi anni, non che abbiamo lavorato solo all'ultimo mese. E inoltre abbiamo presentato una squadra di parlamentari del territorio. Non è avvenuto questo per esempio per Forza Italia, che sono stati tutti e tre, sono stati eletti tre parlamentari che sono stati tutti catapultati da fuori. Noi abbiamo espresso il meglio che avevamo nel territorio, la Latini ad Ascoli, Piceno, Pazzaglini, un sindaco terremotato che è stato sempre controcorrente, contro i provvedimenti del governo che ancora non hanno dato nessun frutto a questo territorio. dove c'è da ricostruirlo e chi non meglio di Pazzaglini, sindaco di Visso, potrà dare un contributo a livello centrale. Poi abbiamo Tullio Patassini, anche lui amministratore di Treia negli anni trascorsi. Poi abbiamo il nostro ex segretario regionale Luca Rodolfo Paolini. Credo che sia una squadra di tutto livello. Abbiamo lavorato anche nel gruppo. Io bisogna che qualche volta me lo ricordo a me stesso. A me stesso il lavoro che abbiamo fatto è il lavoro che stiamo facendo all'interno del gruppo, della Lega. Non solo siamo il gruppo che abbiamo lavorato maggiormente in questi due anni e mezzo, perché non lo diciamo noi, lo dicono i documenti ufficiali del Consiglio, lo dicono le pubblicazioni formali del Consiglio regionale, che siamo il gruppo che ha lavorato maggiormente. Ma ci siamo battuti e ci stiamo battendo come gruppo consigliare per le cose che vediamo che non vanno bene per i marchigiani. Il collega Zura, della provincia di Macerata, si sta battendo come un leone per realizzare un tratto di strada che dovrà portare via dall'isolamento San Severino per la 77, per mettere San Severino in condizioni di raggiungere con facilità le arterie più importanti della viabilità marchigiana. Ma si sta battendo anche come leone contro l'ipotesi della realizzazione di un inceneritore al posto del cimentificio di San Severino Marche. E inoltre, non da ultimo, ma la battaglia che stiamo facendo nella provincia di Ancona e nella regione per quanto riguarda l'Aerdorica, l'Aerdorica che è in fortissime difficoltà, che siamo riusciti a istituire una commissione di inchiesta e tra pochi mesi vedremo la luce di quello che abbiamo ascoltato in questo periodo. E naturalmente siamo poi in forte difficoltà di critica, in forte difficoltà da parte della regione, ma noi siamo fortemente critici per quanto riguarda il problema della sanità, ma soprattutto una sanità che non tiene conto del rentroterra, del rentroterra che mancano i servizi, che c'è già questo spopolamento perché è difficile abitare in questi territori, più questa amministrazione, l'attuale amministrazione, l'attuale governo del Presidente Cerigioli che lascia questi territori senza servizi. Siamo qua a battagliare, a lottare giorno dopo giorno come leoni perché le cose che vediamo non vanno assolutamente bene. Questa è la caratteristica della Lega. La Lega è fatta in questo modo, la Lega è presente sul territorio, la Lega è a fianco del popolo, del popolo in questo caso marchigiano, che vogliamo ripristinare, dare delle possibilità di una regione migliore. Perché io personalmente me la ricordo, scusate, me la ricordo quando c'era come modello, era il modello marchigiano negli anni Ottanta, dove le piccole aziende che nella regione Marche sono oltre 150.000 avevano una economia florida che c'era veramente il benessere. Oggi purtroppo dobbiamo combattere con le macerie di quello che si è determinato in questa regione, che il Partito Democratico ha determinato. Oggi chiamare Partito Democratico dopo quello che è successo ieri, nel senso di numeri, di presenze, credo che sia difficile, però governano loro e naturalmente li chiameremo, continueremo a chiamarlo con nome e cognome, come hanno determinato questa catastrofe, catastrofe nella zona di Fabriano con quasi 8.000 disoccupati purtroppo, che sono là in mobilità, senza lavoro, nella provincia di Ascoli Piceno, piena anche là di disoccupati, 55-60 anni, che sono in forte difficoltà e non vedono più un lavoro con centinaia, centinaia, migliaia di persone che si trovano in difficoltà. E domani, dopo domani, anzi scusate, dopo domani in commissione c'è un'ulteriore, in seconda, un'ulteriore audizione di questi lavoratori. Noi siamo qua, questa è la caratteristica della Lega, siamo in mezzo al popolo, siamo con voi e naturalmente credo che dobbiamo adesso, in questi due anni e mezzo che ci manca alla fine di questa legislatura, su quanto è accaduto. Ieri dobbiamo far riflettere ai nostri compagni di cartello, Forza Italia, Fratelli d'Italia, quello che ci sta di queste forze politiche, e dobbiamo far ragionare perché dobbiamo pensare al futuro di questa regione. Il futuro di questa regione la Lega ci sta pensando con il suo 18% naturalmente e il segnale non è che ci vogliamo fermare qui, vogliamo andare avanti e vogliamo naturalmente che un uomo nostro, un uomo nostro della Lega, si possa mettere a capo di questa regione. Dobbiamo fare tanto altro lavoro, lo faremo, ma soprattutto dobbiamo dire grazie, grazie, grazie a 146 mila elettori della regione Marche che ieri hanno dato questo grande consenso alla Lega e che tramutato in percentuale ci dice che è al 18%. E 4 eletti? E 4 eletti, ma soprattutto i voti che sono tantissimi, 146 mila pensando solo al 2013 che avevamo e ci siamo presentati a una competizione elettorale e abbiamo raggiunto il 0,69%. Da questo numero piccolissimo di poche centinaia di voti, oggi siamo a 146 mila voti. Credo che possa iniziare dal mio viso a iniziare a sorridere, a sorridere per questa grande Lega, per questa grandissima regione che si merita una guida seria, una guida sensata, una guida, come dice Matteo Salvini, del buonsenso per creare ricchezza di nuovo in questo territorio. E la ricchezza, cari marchigiani, non si crea se non si realizza qualche migliaio, forse anche più di qualche migliaio, qualche decina di migliaia di posti di lavoro. Questa è la sfida. Questa è la sfida che la Lega lancia nel 2018, ancora siamo all'inizio dell'anno, ma per il 2020 noi porteremo come progetto, come programma di questo partito il lavoro. Lo so che ancora c'è parecchio, è distante il 2020, ma credo che noi dobbiamo assolutamente lavorare per questo obiettivo, creare, creare, creare lavoro. Se ci date ancora ulteriormente consenso, noi ci mettiamo la nostra faccia, ci mettiamo la nostra volontà, ci mettiamo il nostro impegno e vedrete popolo marchigiano che non verrete traditi dalla Lega.